Gentili telespettatori, buona giornata. Secondo Fratelli d'Italia ci sarebbero delle mani straniere, una manina straniera, perché le versioni, quello che dice questo coviello, sarebbero delle bugie. Si parla di copie distrutte, 331 accessi su una sola persona. Quando ci sono 331 accessi su una sola persona vuol dire che evidentemente non è curiosità, ma c'è dell'altro. Sapete che Coviello, dalla Puglia, da Bitonto, dalla filiale Banca Intesa San Paolo, andava dentro a vedere carta di credito, conti correnti di migliaia di persone, politici, VIP, industriali, sportivi. Fratelli d'Italia teme che ci sia dietro qualche paese straniero. E così su Vincenzo Coviello e su questa inchiesta, chiamiamola Dossieraggio 2, dopo quella di Striano, 6.000 accessi abusivi fatti dal bancario di Bitonto a Bari e coinvolge anche mezzo governo, compresa la Premier Meloni e i suoi familiari e anche Gian Bruno per esempio. Gli inquirenti dicono che c'è evidentemente una complicità, cioè non era da solo e ci dovrebbero essere dei mandanti. Le indagini si concentrano su copie distrutte di questi documenti e su alcune particolarità. Il Corriere della Sera dice Dal nome sul quale ha effettuato più ricerche, pure nell'arco della stessa giornata. Si tratta di F.F, un signore pressoché sconosciuto, sul quale l'ormai ex impiegato della filiale pugliese ha effettuato 310 accessi nell'anno e mezzo esaminato dall'indagine disciplinare delle banche. Quando gliene è stata chiesta ragione, Coviello ha detto di non ricordare, di non conoscere quella persona. In realtà sarebbe un cliente della sua attività di commercialista. Beh, qui sembrerebbe ovvio, stava controllando un suo cliente che magari, chissà, quindi non è un politico di centrodestra, ma ha anche poi ribadito di non aver fatto copie di questo e una versione fragile e sospetta. E poi ha dato delle rassicurazioni a chi gli ha chiesto del motivo di decine e decine di intrusioni su conti aperti presso filiali del centro e nord Italia, lontane dal territorio in cui si trova l'impiegato, il quale si è limitato a confermare di non aver mai utilizzato i dati visionati o raccolti, né di averli trasmessi, comunicati o divulgati a soggetti terzi in qualsivoglia forma. Ha anche ribadito di non aver fatto copia di ciò che ha consultato e dice se lo avessi fatto di aver proceduto alla loro distruzione e se lo avessi fatto. Certamente, dice la verità, il giornale, dice lì Tommaso Foti intervistato, non si tratta dell'iniziativa individuale di un curiosone incallito, come si poteva supporre all'inizio, anche la procura inizia a ipotizzare che questa spia fosse in contatto con terzi. Che siano questi terzi è un quesito che potrà risolvere solo l'autorità giudiziaria. Sono indignato perché il fatto è gravissimo. Stier Striano avrebbe eseguito una quarantina di accessi, ma qui le proporzioni sono ben maggiori, parliamo di centinaia di migliaia di dati, una mole di documenti sensibile e impressionante, è il più grosso scandalo della storia della Repubblica. Vabbè, adesso ho il più grosso scandalo della Repubblica, non esageriamo. I nostalgici del vecchio scandalo Sifar oggi impallidiscono. Qui c'è più di una manina, ci sono manine nazionali e manine internazionali. Bah, io non lo so più. Potrebbe esserci, sì, dietro qualcuno. Il sospetto è questo, come vi dicevo in questi giorni. Finché tu controlli, totti, il calciatore o la meloni, dice questo voleva sapere quanti soldi avevano sul conto corrente, era lì, aveva la possibilità, schiacciando dei tasti, di andare a curiosare. Forse era solo un curiosone incallito. Però poi ti soffermi e dici, ma cosa c'entra l'ex comandante del generale dei Carabinieri in Italia, che nessuno sa come si chiama, e lui come faceva, a venirgli in mente il nome e cognome dell'ex comandante dei Carabinieri per andare a vedere, oppure il comandante della Guardia di Finanza o i magistrati, alcuni magistrati in Italia? Ecco, queste sono cose abbastanza sospette. Perché se tu mi vai a controllare i calciatori, gli attori, la meloni, i berlusconi, allora può reggere anche la storia del curiosone che non sapeva come passare il tempo ed era lì col computer, che faccio? E andava a guardare queste cose. Però quando vai a vedere delle persone come l'ex comandante dei Carabinieri, che io non so né come si chiama, né di nome né di cognome, allora c'è qualcosa di strano, allora probabilmente lo stai facendo su un mandato di qualcuno che ti dice controllami questa persona, nome e cognome. Perché poi ci può essere anche l'omonimia, ci possono essere dei nomi identici, nomi e cognomi identici. E attenzione, se tu vuoi andare a controllare l'ex comandante generale dell'arma dei Carabinieri, devi sapere prima di tutto nome e cognome, ma devi sapere anche dove abita, perché se no magari vai a vedere quello di un omonimo, magari con quel nome e cognome ci sono 10-15 conti correnti con lo stesso nome aperto, quindi devi sapere anche altri dati per poter andare a trovare il comandante dei Carabinieri. Ecco, sono queste le cose sospette. Più che ha controllato Totti o Carlo Verdone o la Juventus, le cose sospette sono proprio altre. Cosa c'entrano magistrati, guardia di finanze e Carabinieri? E qui c'è il problema. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Arrivederci a tutti e grazie. Grazie.